Centralità del paziente è fondamentale, noi viviamo per il paziente, siamo lì tutti i giorni a dare delle risposte ai pazienti e quindi è importante parlarne, vedere di migliorarsi ogni giorno. Noi stiamo cercando di lavorare molto su un progetto importante che riguarda naturalmente il piano della cronicità nazionale e che in Lombardia ha visto una norma importante, quindi la legge, un piano di ragione Lombardia su paziente cronico. Allora le farmacie si sono messe in prima linea insieme ai medici di medicina generale perché rappresentano il territorio perché il paziente viene da noi, viene dai medici, viene da noi e quindi diciamo su questo abbiamo investito naturalmente non soltanto nel dare sempre maggiori risposte ai cittadini ma naturalmente nel continuare a dispensare i farmaci ma anche diciamo nel fare aderenza alla terapia, dobbiamo imparare a usare i farmaci meglio, dobbiamo seguire la terapia a non abbandonarla al primo soffio di vento. Questo è molto molto importante. Un'altra cosa su cui lavoreremo sarà naturalmente nel poter dare maggiori servizi nelle farmacie rurali ma in tutte le farmacie del territorio e ancora nel poter stampare la ricetta medica per quelle persone prescritte da medici medicina generale all'interno del fascicolo sanitario elettronico per tutte quelle persone che non possono recarsi a ritirarla perché sono lontane. Quindi un grande lavoro sempre per dare al cittadino quella che è la sua importanza, la sua cosa. Viviamo di più, dobbiamo stare meglio, dobbiamo vivere ancora di più e quindi la farmacia si aggiorna, investe, investe in informatica, investe in cultura proprio per dare risposte ai cittadini. Come è cambiato il ruolo del farmacista negli anni e come cambierà? È cambiato tanto perché con la nuova norma dei servizi abbiamo voluto ampliare il nostro campo di azione, abbiamo voluto quindi fare che ci fossero lavorare su screening, su screening importanti, anche su grandi malattie come tumori del colon reto, come tumori portati dal fumo, quindi da tante patologie. Abbiamo voluto aumentare i servizi nel campo della telemedicina, si possono fare un etocardiogramma, un alter, si può fare un'autoanalisi, si può andare in farmacia a prenotare un esame, si possono trovare nuove figure professionali. Ecco quindi dopo questa farmacia dei servizi adesso la nuova sfida è proprio quella dell'aderenza alla terapia, quindi nel dare maggiori risposte ai sistemi sanitari nazionali e regionali proprio per ulteriormente risparmiare risorse che devono andare sempre a beneficio dei cittadini.